17 maggio, giornata mondiale contro l'omofobia, la bifobia e la transfobia. Obiettivo di questa giornata è quello di sensibilizzare contro la violenza ai danni delle persone omosessuali, bisessuali e transessuali. Quest'anno Repubblica, la Stampa e l'Espresso sono protagoniste di una campagna di sensibilizzazione che si esprime in tre azioni. La prima azione è il video che state vedendo, che coinvolge direttori di Repubblica, Stampa e l'Espresso e alcuni esponenti della comunità LGBT. La seconda azione riguarda un video che vede protagoniste le lettrici, i lettori, della campagna social A me puoi dirlo, la vedremo nel corso di questa trasmissione. Per la terza azione, i loghi di Repubblica, della Stampa e dell'Espresso che vedete oggi sui nostri siti e sui nostri canali social, sono stati colorati di arcobaleno, simbolo del movimento LGBT. Un messaggio simbolico e chiaro a sostegno della comunità. Ne parliamo in questi giorni perché si sta discutendo al Senato o si sta cercando di discutere al Senato il disegno di legge dell'onorevole Alessandro Zann che avremo come ospite e ne parleremo anche con Michela Murgia, scrittrice editorialista del gruppo Gedi e con tre ospiti in collegamento. Franco Grillini, fondatore dell'Archigay e presidente di Gaynet. Lo faremo con Francesca Vecchioni, presidente di Diversity, una no profit che si occupa di inclusione e infine con Vladimir Luxuria. Allora iniziamo direttore Molinari. Spesso si pensa che l'omofobia, la transfobia siano qualcosa che riguarda una minoranza sociale discriminata, mentre in realtà l'orientamento sessuale, l'identità di genere sono aspetti che attraversano ognuno di noi. Ci toccano in prima persona, toccano i nostri amici, i nostri parenti, possono riguardare i nostri figli. Quindi a ben vedere è una situazione che riguarda un aspetto più generale di democrazia, di rapporti tra di noi. Secondo te c'è una responsabilità nel mondo dell'informazione a far passare questo messaggio che a volte non riesce a passare oppure rischia di diventare qualcos'altro? Io credo che la responsabilità sia non solamente dei mezzi di informazione ma in realtà di tutti i cittadini. In una democrazia matura i diritti si sommano, non si contrappongono. Identificare e proteggere i diritti di gender in tutte le sue loro declinazioni significa rafforzare il sistema democratico. Identificare e proteggere i diritti LGBT non significa contraporsi ai diritti degli etero, significa rafforzare anche i diritti degli etero. Difendere i diritti di chi è religioso significa anche difendere i diritti di chi è laico. In una democrazia i diritti si sommano. Più diritti si riescono a identificare, più una democrazia è forte. Questo ha a che vedere come noi guardiamo il nostro sistema democratico, la nostra Costituzione, l'articolo 3 della Costituzione che impedisce ogni tipo di discriminazione. Quindi, credo che sì ci sia una responsabilità da parte nostra, ma più in generale di ogni cittadino e di come si vede protagonista del patto di cittadinanza. Massimo Giannini, direttore della Stampa. Il movimento gay nasce proprio a Torino 50 anni fa. Era il 1971 quando viene fondata la prima associazione, il fuori da Angelo Pezzano e da altri attivisti. Non molti sanno che quella mobilitazione nasce proprio per un articolo pubblicato sulla stampa che suscitò l'indignazione degli attivisti di allora, che chiesero di rispondere e di pubblicare la loro protesta e in realtà non furono ascoltati. E Angelo Pezzana racconta di aver ricevuto in risposta dalla direzione che di quell'argomento si parlava fin troppo. Oggi secondo te se ne parla fin troppo? Cosa è cambiato da allora? Intanto il direttore. Probabilmente io oggi, anzi senza il probabilmente, accetterei senz'altro quel tipo di contributo e non risponderei che se ne parla fin troppo. Dico questo perché ho la sensazione che il tema del se ne parla fin troppo, oppure ancora di più, il tema del non è questa la priorità, sia non già dal punto di vista mediatico, ma direi dal punto di vista politico, uno degli argomenti fondamentali che viene usato oggi, qui ed ora per contrastare questo disegno di legge che invece è sacrosanto. Come se, diceva giustamente Maurizio, i diritti che si sommano e non si contrappongono in una democrazia moderna potessero aspettare. I diritti non possono aspettare, è sempre il momento dei diritti, non può esserci un'ora e un dopo per i diritti, tutti i diritti, siano essi sociali, siano essi civili. Per questo penso che al di là dell'opposizione di contenuto, di merito su questa legge, che pure passa attraverso una serie di mistificazioni secondo me importantissime, l'altro argomento fondamentale dell'ordine di priorità, siccome c'è la pandemia, siccome c'è l'economia, c'è il recovery, adesso il paese ha altri obiettivi da raggiungere, è molto pericoloso. E in questo sì, devo dire, la responsabilità del sistema dell'informazione è molto elevata, è molto elevata e io credo non sempre all'altezza della sfida che abbiamo di fronte, perché ripeto, è sui diritti che si misurerà la capacità delle nostre democrazie di reggere l'urto di tutti i cambiamenti in tutte le sfere della vita. Ripeto, siano esse sociali, pensiamo a quello che sta accadendo nel mondo del lavoro, siano esse civili, pensiamo a quello che succede a proposito delle discriminazioni in materia di sesso, di gender, di disabilità. Quindi dobbiamo farcene carico soprattutto noi, noi che facciamo informazione, per far presente, ripeto, che tutti i diritti contano allo stesso modo e nello stesso momento. E se c'è qualche circostanza nella quale si evince, come sta accadendo adesso, che alcuni di questi diritti sono conculcati, noi dobbiamo insistere e dare battaglia fino in fondo. È quello che stiamo facendo qui oggi. Marco Damilano, allora, la violenza e i pregiudizi si combattono anche dando voce a chi non ne ha. Quante volte abbiamo sentito parlare anche di fake news, di false notizie, quando si parla di temi LGBT, di dittatura del gender, di dittatura del politicamente corretto, di lobby gay. Qual è il ruolo che possono avere i giornali oggi nell'evoluzione culturale e sociale del paese? Chi parla di dittatura del politicamente corretto in anni passati ha difeso, ha sostenuto chi oscurava intere fasce di popolazione, le persone con le loro vite, con le loro esistenze. faceva finta che queste persone non esistevano e mi riferisco a molti caratteri di discriminazione. Maurizio ha già parlato dell'articolo 3 della Costituzione e l'articolo 2 dice che la Repubblica italiana riconosce e garantisce i diritti inviolabili delle persone. L'articolo 3 dice che la Repubblica si impegna a rimuovere, allora gli ostacoli che impediscono il pieno svolgimento della persona umana. Allora riflettiamo su questi tre aggettivi, scusami, su questi tre verbi, riconoscere, garantire e rimuovere. Mi piace molto riconoscere perché vuol dire che il diritto, e parliamo anche di un disegno di regge in via di approvazione, speriamo rapida, da parte del Parlamento, riconosce qualcosa che nella società già c'è. I diritti non sono statici ma sono dinamici. Appena hai rimosso un ostacolo se ne creerà un altro che andrà rimosso perché è l'impegno della Repubblica. Io credo che il nostro lavoro sia esattamente questo. Noi non creiamo quello che c'è nella società, però chi fa il nostro mestiere lo riconosce, nel senso che lo racconta, accende una luce, vede che c'è qualcosa che magari non abbiamo capito, non abbiamo compreso, a volte siamo anche in ritardo, a volte siamo anche in anticipo. I nostri giornali, Repubblica, la stampa, l'Espresso, la stampa ha una storia più lunga, l'Espresso arriva dopo, ma abbiamo in comune che abbiamo sempre raccontato quello che si muoveva nella società italiana con la prospettiva di allargare i diritti, penso alle battaglie sul divorzio, la storica copertina dell'Espresso sull'aborto con la donna crocifissa, le battaglie prima della legge 180, sulla chiusura dei manicomi, fino ad arrivare a oggi. Ogni generazione ha avuto i suoi diritti da riconoscere, ogni generazione di giornalisti ha avuto la sua parte di società da raccontare e noi siamo qui a raccogliere il testimone, siamo quindi impegnati in questa giornata, su questa battaglia, perché questo è il nostro tempo e su questa battaglia siamo impegnati e in questo racconto siamo mobilitati. Grazie direttore. Spesso ci ripetono che l'omosessualità è un fatto privato da rinchiudere in camera da letto, mentre non dovremmo mai vergognarci di dirci chi siamo e chi amiamo. Per questo 17 maggio abbiamo deciso quindi di cambiare punto di vista, anziché non voglio saperlo, vogliamo essere tra quelli che dicono a me puoi dirlo. E nasce così la campagna social che abbiamo organizzato con Repubblica e che abbiamo lanciato nelle settimane scorse chiedendo alle nostre lettrici, ai nostri lettori, qual è la frase che vorrebbero sentirsi dire oggi. Se anche voi volete partecipare condividete il vostro video sui social taggate Repubblica e condividetelo con l'hashtag a me puoi dirlo. Guardiamo ora il video e poi accogliamo Alessandro Zan, relatore del disegno di legge contro l'omofobia, la transfobia, l'abilismo e la misoginia. Ti vedo per quello che sei e i tuoi colori non mi spaventano. A me puoi dirlo. Luca, a te cosa ti piacerebbe sentirti dire? Una cosa che non mi ha detto nessuno, benvenuto nel terzo millennio. Ma sono 21 anni che siamo nel terzo millennio. È meglio anche tu accoglierlo fuori, mica se ne sono accorti. Ma che cosa vuoi che sia? Sei come Cecchi Paone. Quello che vorrei sentirmi dire trovo assurdo che tu non abbia i miei stessi diritti e mi batterò perché questa cosa cambi. A me puoi dirlo. Voglio che tutte le persone che si vogliono bene possano potersi baciare senza guardarsi prima attorno per vedere se c'è qualcuno che possa attaccarli o insultarli o picchiarli. Io mi sento più sicuro se tu sei al sicuro. Mi presenti il tuo compagno? A me puoi dirlo. Non importa se tu sei uomo, non importa che tu sia donna. Importante è quello che tu hai dentro. Siete proprio una bella famiglia. Forse un po' noiosa, però quelle bambine sono l'immagine della gioia. Ecco, a me puoi dirlo. Che bello vestirci come ci pare e vestirci da uomo. A me puoi dirlo. Sei un modello e un esempio di libertà, di autodeterminazione e di gioia di vivere. A me puoi dirlo. Non scappare se ami. A me puoi dirlo. Sei una persona per bene. Sei un cittadino onesto. Sei un valido professionista. La frase che vorrei sentirmi dire è coraggio. Non sei solo. Continuiamo a lottare contro tutte le discriminazioni. Restiamo comunità. I tuoi sentimenti sono validi. Nessuno a parte te può decidere chi sei. Il problema non è la tua omosessualità, ma l'omofobia degli altri. Sei te stesso. Non nasconderti. Grazie per avermi detto chi sei. Per avermi permesso di conoscerti veramente. La frase che vorrei sentirmi dire è tranquillo. Al Pride ci andiamo insieme. A me puoi dirlo. Mi sarebbe piaciuto sentirmi dire a me puoi dirlo. Abbiamo lottato negli ultimi 50 anni per permetterti di dirlo. E amare chi vuoi. Anche a me puoi dirlo. La vita è una questione di spazi. Se non ti permettono di esprimerti, tu semplicemente ti sposti. A me puoi dirlo. Benvenuto ad Alessandro Zan, relatore della legge contro l'omofobia. Grazie. Di questo disegno di legge si è detto più quello che non è. Cioè che è una legge liberticida, che è una legge bavaio. Si è detto che basta il codice penale. Che è quello che è. Che cosa prevede davvero il disegno di legge Zan? È una legge contro i crimini d'odio, che sono particolarmente odiosi, insidiosi, perché vanno a colpire la soggettività delle persone. Vanno a colpire le persone per la loro condizione personale. Per dirle in modo semplice, semplicemente perché esistono. E dunque in un paese civile come l'Italia, che non si è ancora dotato di una legge di questo tipo, peraltro è l'unico grande paese europeo che non ha ancora una legge contro i crimini d'odio, questa legge è molto urgente perché assistiamo ogni giorno a casi di cronaca, che sono solo quelli che riusciamo a conoscere, perché poi sono solo la punta di un iceberg, di una serie numerosissima di casi di violenze, di bullismo, di discriminazione. Perché ancora viviamo in una società che ha una cultura patriarcale, che non accetta le differenze, ha ancora uno stigma verso quello che viene considerato il diverso. E dunque alcune persone si sentono legittimate a compiere queste azioni di violenza contro delle persone, semplicemente per la loro condizione individuale. E dunque questa legge è importante perché laddove è stata approvata in altri paesi abbiamo visto che i fenomeni di crimini d'odio appunto sono diminuiti, anche perché una legge fa anche cultura, non ha solo degli effetti, come dire, di deterrenza, ma anche produce un dibattito, una riflessione. Anche degli aspetti positivi oltre l'aspetto penale. Direttore Molinari, che cosa non torna di questa legge? Cioè perché spaventa così tanto questo disegno di legge che è semplicemente contro la violenza, contro chi la istiga verbalmente o contro chi la commette? È un passo avanti nella modernità. Ogni volta che un paese fa un passo avanti nella modernità incontra delle resistenze. Più la modernità è forte, più il passo è importante, più le resistenze sono granitiche. Ricordiamoci le battaglie che ci sono state per l'aborto, per il divorzio nel nostro paese. Quello che l'onorevole Zancia ha appena detto secondo me è molto vero. Oggi la cartina e i tornasole delle democrazie è anche il rispetto dei diritti di genere. La differenza fra i paesi è fra chi li rispetta e chi non rispetta questa tipologia di diritti. Noi veniamo da settimane molto dure a causa dell'opposizione da parte di due paesi, dell'Unione Europea, la parità di diritti di genere, la Polonia e l'Ungheria. Sappiamo che in paesi come la Russia, come l'Iran, come la Malesia, essere gay o lesbiche, LGBT comporta delle discriminazioni, delle sanzioni, molto spesso comporta perdere la vita. Questo ci deve far pensare a quale parte del mondo noi vogliamo appartenere. Io ho avuto la fortuna di vivere negli Stati Uniti durante la battaglia per le nozze gay e ricordo come il momento cruciale di quella battaglia è stato quando la società americana nel complesso ha capito che era una battaglia per i diritti di tutti. Era una battaglia per i diritti civili. Era la parte più avanzata, la nuova stagione dei diritti civili. Negli anni 60 i diritti civili erano i diritti degli afroamericani, nella nostra generazione sono i diritti LGBT. Questa è la società americana nel complesso e mi colpì molto che durante quella fase dell'amministrazione Obama fuggiò Biden, cioè il più anziano dell'amministrazione, che spinse il Presidente. Quella battaglia la iniziò Biden, non la iniziò Obama. Questo significa quando una democrazia è matura e credo che questa è la sfida che abbiamo davanti e di conseguenza quindi ci sono le resistenze che però bisogna affrontare, bisogna chiamarle per nome e sfidarle senza nessuna remora. Direttore Giannini, perché la politica si spacca su questo DDL? Si è scritto che è un tema divisivo, come se la violenza fosse un tema su cui c'è bisogno di dividersi. Perché non si è tutti d'accordo nei partiti? Intanto chiamiamo le cose con loro nuove. Qui abbiamo paura di definire le cose per quelle che sono. Il tema delle questioni divisive che è bene non affrontare non riguarda soltanto il tema dei diritti degli LGBT, ma riguarda più in generale questa fase politica che stiamo attraversando. Come se noi dovessimo convergere o potessimo convergere come comunità soltanto su temi sui quali non c'è dissenso. E invece è proprio con quello che una società cresce si evolve. Quando di fronte a un tema divisivo per l'appunto ci si confronta, si ragiona, ci si scontra quando serve e alla fine si trova una sintesi superiore, un equilibrio più avanzato avrebbe detto Pietro Nenni. Perché non succede in Italia? Ma insomma, noi dobbiamo, credo per capirlo, partire dagli elementi di fatto. Che cosa prevede questa legge e che cosa non prevede questa legge? Questa legge, lo ha sintetizzato prima Zan, allarga ai reati di istigazione violenta rispetto alle comunità discriminate per motivi di sesso, di identità sessuale, di orientamento sessuale, di genere e di disabilità? Quelle norme già previste dalla legge Mancino a proposito della discriminazione basata sulla razza e sulla religione. Bene, c'è qualcuno che realisticamente sulla base di questo elemento può dire una cosa di questo tipo non va bene? Ragioniamo. Chi è che può dire no, non mi piace? Come dire all'opposto se qualcuno istiga alla violenza nei confronti di queste categorie, io non ho nulla da dire, mi sta bene così. Questo dice la legge, no? Ecco, bene. Però questo è una parte della storia, è una parte della legge, perché la politica e buona parte di quelle organizzazioni che stanno lottando contro questa legge ci mettono sopra la mistificazione, la manipolazione, cioè aggiungono. Questa legge stabilisce la possibilità di autocertificare la propria identità sessuale. Questa legge introduce la possibilità dell'utero in affitto, cioè sono tutte cose che nella legge non ci sono. Bisogna dirlo con chiarezza, usiamo questa occasione per spiegare che queste cose nella legge non ci sono. Quindi chi agita questo spettro sta commettendo una clamorosa manipolazione ai danni della società civile. Perché lo fa? e qui veniamo al punto fondamentale. Chi è che sta facendo questa battaglia? Al di là di una piccola frangia del movimento femminista, non entro nel merito, hanno le loro valutazioni, io non le condivido. La sta facendo soprattutto la destra politica. Quando parlo di destra politica mi riferisco alla Lega di Matteo Salvini e a Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni. Abbiamo visto nei giorni scorsi come persino dentro Forza Italia si sia creata una faglia importante. Nell'ultima manifestazione a Milano in piazza c'era Francesca Pascale, c'era Elio Vito, la Biancofiore ha detto cose molto nette contro Tajani che se n'è uscita con la solita frase, l'unica famiglia vera è quella dove ci sono i figli. Dunque, l'ala più oltransista della destra italiana, usando questi argomenti manipolatori, che cosa si ripromette di fare? In una fase nella quale si va verso una tornata elettorale di amministrative importante e nella quale forse più in là, neanche alla fine della legislatura, si tornerà a votare per le elezioni politiche, cerca di ridare compattezza al suo elettorato in nome di che cosa? In nome dell'omofobia. Chiama alle armi il proprio elettorato su una battaglia ideologica, dicendo a tutti coloro che, moderati, conservatori, tutti quelli che non vogliono vedere che cosa è successo nella società e nella civiltà occidentale o planetaria di questi anni, guardano a quelli come una minoranza pericolosa, quindi aggreghiamoci contro quelli. Questo è il messaggio subliminale di chi dice no alla legge Zanna, una, ripeto, clamorosa mistificazione politica che va smascherata e l'unico modo per farlo è raccontare cosa c'è nella legge e soprattutto denunciare cosa non c'è e quindi cosa i suoi nemici invece additano all'opinione pubblica. Grazie direttore. Abbiamo in collegamento Francesca Vecchioni, giornalista e presidente di Diversity, un'associazione no profit che si occupa appunto di inclusione ed è anche fondatrice dei Diversity Media Awards, sono dei premi che vengono consegnati a giornalisti, professionalisti, persone che si occupano di comunicazione ma anche persone del mondo dello spettacolo che si sono distinte per far fare un passo in avanti all'Italia sul tema dei diritti. Ecco Francesca, ciao innanzitutto. Buongiorno, grazie dell'invito, è una bellissima discussione. Condivido finora tutto ciò che è stato detto naturalmente. Ecco qui ci sono due direttori di due testate importanti italiane, tu ti occupi di informazione, sei una collega, quali consigli puoi darci per non cadere in questi luoghi comuni che sono sempre così affollati? Intanto i direttori che sono lì presenti hanno avuto negli anni alcuni articoli nominati o vincitori di Diversity Media Awards. I Diversity Media Awards fanno proprio questo, cioè cercano di, diciamo prendendo spunto da quello che è già stato detto, di rappresentare, di mostrare la rappresentazione reale più ampia possibile e veritiera della società. Perché il tema è proprio questo, ossia quando l'immaginario collettivo, diciamo, racconta i grandi temi della nostra società passa spesso da un condizionamento, tra virgolette, di quello che gli viene realmente mostrato oppure no. La responsabilità dei media, la responsabilità dell'informazione e quella anche dell'intrattenimento. Quindi tutto ciò che passa attraverso i prodotti che noi vediamo anche nel digitale è grandissima. Esattamente come dal punto di vista dell'immaginario esiste un impatto rispetto a quello che ci viene rappresentato, ossia la rappresentazione delle persone e delle loro storie, nello stesso modo il diritto per noi è fondamentale. Cosa intendo che la norma non può fare a meno di parlare della realtà e in questo senso non può cancellare le persone, le persone che subiscono violenza o discriminazione esistono e quindi mi sembra che sia logico che questi temi siano tutti molto attinenti. Grazie Francesca. Apriamo il collegamento anche con Franco Grillini. Franco Grillini è il fondatore di Arcighe, presidente onorario, 50 anni di battaglie per i diritti LGBT e la bandiera del movimento. Franco, durante il congresso di Arcighe nel 1985 mi raccontavi prima che chiedeste ai giornalisti di uscire fuori dalla sala. Ecco perché puoi raccontarci il clima di quegli anni. Erano anni dove fare coming out era difficilissimo e molte persone avevano paura di perdere il lavoro, gli affetti familiari, i rapporti di amicizia e persino l'ala militante era in queste condizioni. Penso che in quella sala con 100 delegati fossi pressoché l'unico, magari forse Paolo Utter era allora consigliere comunale a Milano e era dichiarato, cioè visibile, e la stragrande maggioranza dei delegati non lo era e quindi imposero in un'emozione la non apertura del congresso ai giornalisti. Fummo giustamente criticati, attestate come il resto del Carlino, il manifesto proprio per questa ragione. E questo esprime in maniera molto chiara la drammatica condizione persino di chi faceva politica e militanza, c'era allora di paura, di autentica paura, come se fossimo sotto una cappa, sotto una dittatura e dittatura non era perché eravamo in democrazia e il percorso personale di liberazione era ancora molto 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 complicato. E una cosa che mi dispiacque perché io sono giornalista, è scritto all'ordine, direttore di testata online e quindi mi dispiacque moltissimo, chiesi scusa personalmente ai colleghi, ripromettendo di non accettare più di fare un congresso dove non ci fosse la stampa, che fosse preclusa la stampa. Il congresso successivo dell'87 infatti fu fortunatamente pieno di colleghi giornalisti. Da 23 anni sei presidente dell'associazione GENET che si occupa di formazione dei giornalisti sulle tematiche LGBT. Come valuti la rappresentazione delle persone omosessuali e transessuali nei media? Sono stati i nostri principali alleati, è stato il primo gruppo la cui organizzazione di diritto privato Casagit ha riconosciuto i diritti delle coppie omosessuali in Italia, quindi in merito del mondo giornalistico indiscusso. Gioia e dolori perché quando si va a Ancronaca Nera si apre spesso una macelleria dove troviamo le solite frasi delito gay maturato nel torbido mondo degli omosessuali, le amicizie pericolose o particolari, un frasario che conosciamo bene e che è stato drammatico per gli omosessuali che leggevano questi articoli e che non vi si riconoscevano ovviamente e non a caso il primo corso di formazione che abbiamo fatto l'abbiamo chiamato le amicizie particolari e devo dire che questi corsi di formazione sono popolatissimi, anche adesso ne abbiamo una decina quest'anno in mezz'ora nella piattaforma Sigia si riempiono, c'è una domanda fortissima dei colleghi giornalisti di informazione e formazione, quindi sono particolarmente contento del successo di questa iniziativa che non è come ha detto la destra che ha contestato anche questo, qualunque cosa viene contestata, qualunque iniziativa viene contestata alle persone omosessuali, anche questa dicendo che noi vogliamo indottrinare i giornalisti, per carità né indottrinamento e neanche meno dittatura del politicamente corretto, sono consigli di utilizzare un linguaggio rispettoso e di utilizzare le parole giuste per dirlo, perché le parole purtroppo a volte sono come proiettili. Grazie Franco, vedo in collegamento anche Vladimir Luxuria, grazie Vladimir per essere con noi. Grazie a voi, un saluto a tutti e tutti. Vladimir, stiamo parlando qui anche della legge ZAN che difende anche le persone dalla transfobia, qual è la condizione in cui si trovano oggi le persone transessuali, le persone transgender? Siamo abbastanza vulnerabili, perché non è che possiamo tanto permettere di nasconderci, soprattutto nella prima fase della transizione la nostra diversità non è visibile, è proprio fosforescente e quindi problemi di discriminazione sul mondo del lavoro, problemi di circospezioni, cioè andare in giro circospe, controllare gli sguardi degli altri, evitare certi luoghi, evitare di reagire in casi in cui veniamo attaccati, se siamo da sole e le altre persone sono in gruppo. E mi dispiace molto che si abbia così paura proprio del termine identità di genere, che è il termine giuridico con il quale noi veniamo definite. Così come non si parla di gay o lesbiche in questo DDL e si parla di orientamento sessuale, che riguarda appunto l'omosessualità, la bisessualità e l'eterosessualità, per quello che riguarda la nostra condizione bisogna correttamente parlare di identità di genere, cioè coloro che si identificano parzialmente o per nulla rispetto al genere enografico. Io vorrei ricordare che nel 2013 il Parlamento italiano tutto, Camera e Senato con un solo astenuto, quindi partiti di sinistra, di destra, tutti, hanno votato una convenzione che si chiama Convenzione di Istanbul, dove all'articolo 4 si fa riferimento alla lotta contro le discriminazioni per le donne, per i disabili, per orientamento sessuale e identità di genere. Era già scritto allora. Allora io mi chiedo, se l'hanno votata allora questa Convenzione di Istanbul, perché ne hanno paura adesso? Perché devono usare il tema dell'identità di genere, l'inesistente ideologia gender per mettere paura, per fomentare quelle paure che già ci hanno provato con le unioni civili e adesso nessuno rimetterebbe più in dubbio le unioni civili o chiederebbe di scendere in piazza per fare un referendum contro le unioni civili. La Meloni, Salvini non chiederebbero più ai loro elettori di scendere in piazza contro le unioni civili, perché si sono accorti che quello che avevano fatto era propaganda terroristica. Mettere paura, mettere il terrore, la stessa cosa sta valendo per questa legge. Cercano di mettere paura, sviando dai veri contenuti di questa legge e parlare di cose che non esistono. Ideologia gender, come se noi volessimo entrare nelle scuole per travestire i bambini o deviare i bambini, invece si vuole parlare di bullismo. O peggio ancora di mettere il bavaglio a qualcuno, vietare di esprimere le loro opinioni. Diritto alla parola sì, diritto alla parolaccia no. Diritto all'avere la libertà d'espressione, stancita dall'articolo 21 della Costituzione, sì, istigare all'odio, alla violenza. Quello mi dispiace anche noi. Grazie, grazie Vladimir Luxuria. Rientriamo in studio, ci ha raggiunti Michela Murgia. Benvenuta Michela. Tornato Marco da Milano. Michela, le parole, lo sappiamo, possono essere muri o ponti. Franco Grillini lo accennava prima. Le parole possono creare distanza tra le persone, aiutare la comprensione dei problemi. Possono essere pietre. Ecco, che idea ti sei fatta del dibattito che c'è sulla legge Zan nei media e sulla rappresentazione che ancora oggi hanno le persone omosessuali e transessuali nei media? L'idea che mi sono fatta del dibattito è che ci siano tantissime persone con interessi politici che intervengono in questo dibattito con argomenti che in realtà non hanno nulla a che fare col cuore della legge. L'abbiamo detto e ripetuto diverse volte, l'ha appena detto anche adesso Vladimir, si parla di violenza e di parole che generano violenza. Chi è che può prendere in mano la propria coscienza e dire io sono a favore della violenza contro le persone transessuali, sono a favore della violenza contro le donne, sono a favore della violenza contro i disabili. Nessuno può fare una cosa del genere. Quindi qual è il problema nel voler appoggiare una legge che dice chiunque commetta un atto di violenza o istighi, chi ha la violenza contro queste categorie e si riesce a dimostrarlo in tribunale avrà un aggravante di pena. Quindi non è un reato contro i reati d'opinione, la violenza non è un'opinione. Esistono opinioni che generano violenza però nel momento in cui sono organizzate e qui rispondo alla seconda parte della domanda che mi facevi. Tutti noi utilizziamo le parole quotidianamente e ciascuno è responsabile delle proprie, ma ci sono delle categorie professionali come i giornalisti, le giornaliste, gli scrittori e le scrittrici, ma anche le persone che hanno un'influenza mediatica a vario titolo su tante persone. Ecco, queste categorie qui hanno una responsabilità sulle parole che utilizzano che deve necessariamente essere maggiore, perché non sei responsabile solo delle tue parole, ma anche di quante volte, in quante teste le tue parole rimbalzano. Noi abbiamo la possibilità di influire sul linguaggio collettivo, per questa ragione chi produce narrazione su questo tempo deve scegliere con attenzione le parole del rispetto, perché significa costruire più rispetto nella testa di tutti. Per pretendere che sia un'opinione quella di rinunciare al rispetto, dice non me ne importa niente di rispettare le categorie discriminate, voglio continuare a dire le mie parole d'odio, se sei una persona che incontra soltanto i suoi amici a cena avrai una responsabilità con la tua coscienza, se sei un giornalista, se sei una persona pubblica e ti servi dei media per fare la stessa cosa, quella roba lì secondo me dovrebbe determinare una responsabilità, perché tu stai rendendo più pericoloso il contesto di vita di tantissime persone. Marco Damilano, che detti si è fatto sul DDL ZAN e perché il mondo politico si spacca? Stavo pensando adesso che il 17 maggio 1981, quindi esattamente 40 anni fa oggi, gli italiani votarono per un referendum sulla legge sull'aborto, sulla legge 194 e bocciarono quei quesiti, uno era dei cattolici, uno era dei radicali, che avevano ovviamente punti di vista opposti, con oltre il 65%, il 67%, il 68%. Quattro giorni prima c'era stato un attentato in Piazza San Pietro, l'hanno sparato a Papa Voitiva, gli italiani ebbero la maturità di votare anche in un momento molto drammatico, così come la legge 194 fu approvata, infatti è datata 22 maggio, quindi anche in questi giorni possiamo celebrarne la promulgazione, la pubblicazione sulla gazzetta ufficiale e quindi l'entrata in vigore, ma fu approvata durante il momento più drammatico della storia repubblicana, cioè i 55 giorni del rapimento di Aldo Moro. Nelle stesse settimane il Parlamento approvò anche la legge 180, addirittura con la commissione in sede legislativa, vuol dire che c'era un tale accordo tra le forze politiche che la legge non andò in aula, fu approvata in commissione, come Vladimir Luxuria, Franco Grillini, Alessandro Zana, li conosco come parlamentari, li saluto tutti e tre, come bravissimi parlamentari. Allora cosa voglio dire con questo riferimento storico? Voglio dire che anche nei momenti di massima emergenza forze politiche che non hanno un complesso di inferiorità, che sono sicure dei loro valori, hanno avuto la forza di dividersi, perché sulla legge sull'aborto la democrazia cristiana votò in un modo, gli altri partiti in un altro, eppure facevano parte di un governo di unità nazionale, esattamente come oggi, ebbero la maturità di scontrarsi, di dividersi e di portare avanti quello che nella società era ormai acquisito e che non poteva non trovare un riflesso legislativo e politico. oggi pensare, dire non è il momento, c'è l'emergenza, siamo in un governo di unità nazionale, è un tradimento di quello che è il Parlamento, il Parlamento leggifera, il Parlamento riconosce dei diritti, il Parlamento si divide, si schiera, poi si vota, non perché c'è una formula politica piuttosto che un'altra. Io credo che su questa partita, su questa legge ci sia un riformismo da una parte, un riformismo mite, non stiamo qui a fare una cruciata, come dicono gli avversari di questa legge, che semmai fanno una cruciata di segno opposto per mettersi in sintonia con quello che in Europa non è certo un riformismo, anche di stampo liberale moderato che c'è e che in altri paesi europei ha approvato leggi ad esempio sui matrimoni gay, mentre qui siamo più vicini ad altre esperienze, quelle di cui parlava prima il direttore di Repubblica Molinari, siamo vicini alla Polonia, all'Ungheria, alla Russia di Putin, siamo a una destra che proprio su questo sta dimostrando l'identità peggiore, però voglio dire una cosa che non suoni paradossale, forse dovremo anche ringraziare chi in quei partiti esce per così dire al naturale, perché aiuta a tenere saldo questo discrimine tra un riformismo dei diritti e chi vuole che l'Italia sia sempre dalla parte peggiore dell'Europa e della storia. Alessandro Zan ci avviamo alle conclusioni, questa legge verrà approvata così com'è, quale appello si sente di fare a chi non è d'accordo, a chi ancora è spaventato sui contenuti del disegno di legge contro l'omofobia, la transfobia? Ma intanto bisogna ricordare che questa legge è già stata approvata da un ramo del Parlamento, dalla Camera dei Deputati a larga maggioranza, anche con i voti favorevoli di un pezzo del centrodestra, un pezzo del centrodestra liberale che si riconosce appunto in una battaglia che non dovrebbe essere di parte ma dovrebbe essere di tutti. Ricordo che in Francia nel 2004, sono passati 17 anni, fu la destra di Shirak ad approvare una legge contro i crimini d'odio e proprio come diceva giustamente il direttore da Milano, dobbiamo capire attraverso l'approvazione di questa legge da che parte vuole stare l'Italia, se vuole stare con i paesi europei e più avanzati o se vuole scivolare inesorabilmente verso quei paesi come l'Ungheria e la Polonia che stanno smantellando i diritti civili e le libertà individuali delle donne e della comunità LGBT+. Ricordo che in Polonia esistono delle LGBT free zone, cioè delle zone dove le persone omosessuali e trans non possono entrare. Questo ricorda i tempi bui, ricorda le leggi razziali, ricorda l'apartheid. La Polonia è in Europa, non dimentichiamolo. Per cui l'Italia ha di fronte la possibilità anche attraverso l'approvazione di questa legge di stabilire da che parte stare e io penso che questa legge ha il diritto di essere discussa in Senato, nessuno vuole comprimere il dibattito ma di solito una legge che viene approvata in un ramo del Parlamento deve automaticamente poi viene discussa nell'altro ramo. Invece la destra ha presentato un'altra legge che è un attacco peraltro alla legge Mancino che toglie l'identità di genere e dunque discriminerebbe un gruppo sociale come le persone trans che sono le più discriminate tra i discriminati. In Italia abbiamo la maglia nera per gli omicidi delle persone trans, siamo il paese dove si ammazzano più trans di tutta Europa. Ecco, questo lo dobbiamo ricordare che l'Italia è agli ultimi posti in questo senso e allora io penso che le opportunità oggi che ha anche la destra è quella di dire basta farne una bandiera ideologica, non trasformiamo questa in una battaglia contrapposta ma guardiamo a quello che è la legge, cioè una legge che vuole evitare che delle persone per la loro condizione personale siano fatte oggetto di violenza e di odio. Questo penso che tutti siano d'accordo in un paese civile non può essere accettato. Io mi auguro che da qui poi il dibattito al Senato sia un dibattito costruttivo appunto sereno il più possibile e che si arrivi il prima possibile ad approvare questa legge. Ricordo che siamo al sesto tentativo in Parlamento, ci sono stati cinque tentativi in passato falliti. Il primo fu di Nichi Vendola nel 1996 e insomma penso che anche basta, adesso è il tempo veramente di approvare una legge e di non utilizzare argomenti che sono ultroni alla legge per cercare ovviamente di affossarla. Io vorrei che da parte anche della destra ci fosse un'onestà intellettuale di dire non stiamo con gli omofobi, non stiamo con le persone che discriminano ma stiamo dalla parte delle libertà delle persone e stiamo dalla parte dei diritti civili. Grazie Alessandro Zan, grazie Michela Murgia, grazie Direttore, grazie a tutti gli ospiti che sono intervenuti e grazie a voi lettrici e lettori che ci avete seguito.